Cerco di scoprire cosa c'è più in là. Alla ricerca di elementi nuovi. Alla ricerca di elementi. Sì, questo è un po' incazzato. Però è molto forte. Ha dei suoni un po' prepotenti. Però li senti. E' macribbio. Tutto è posto. Cribbio si può dire. Sì, poi. Che roba d'ascolto.